La laser terapia è sempre più utilizzata in medicina estetica per rimuovere o correggere in perfezioni sia di tipo estetico che di tipo funzionale. Mi trovo all'interno di una delle sedi di Medical Proforma in via Valmaggia a Roma in compagnia del dottor Giovanni Palombo specializzato in medicina estetica e medicina generale. Ben trovato dottore. Parliamo del laser, del laser plasma, che cos'è? Allora il laser al plasma o radioskin è l'apparecchiatura che utilizziamo nelle strutture Medical Proforma ed è un laser di nuova generazione che rappresenta un'evoluzione del vecchio radiobistori. ha rispetto a questa precedente tecnologia dei plus importanti che sono il controllo computerizzato dell'energia che viene erogata al paziente per cui si massimizza il risultato minimizzando l'esposizione del paziente a questa fonte di energia. I vantaggi per il paziente sono un recupero funzionale più rapido, l'assenza di particolari controindicazioni, la necessità di una anestesia minima, tante volte soltanto superficiale a livello cutaneo, impatta pochissimo con il proseguo dell'attività quotidiana del paziente. Come funziona il trattamento? Il trattamento funziona a seconda delle specifiche problematiche che andremo a trattare. In generale bastano due o tre sedute per risolvere la gran parte dei problemi e il laser eroga un'energia puntiforme in grado di vaporizzare il tessuto in eccesso. Quindi quando parliamo ad esempio di una bleforoplastica avremo un eccesso di tessuto del palpebrale oppure se parliamo di un neo avremo un eccesso di tessuto da rimuovere. Quindi il Radioskin è in grado di rimuovere tutto questo tessuto apportando il minimo fastidio al paziente. Quali sono i problemi che possiamo risolvere con il trattamento del laser per la plasma? Trattamenti specifici sono sicuramente la rimozione dei cheloidi, delle cicatrici ipertrofiche, cheratosi seborroiche, dell'angiomi rubino. Si può intervenire anche nell'esecuzione di blefaroplastica non chirurgica dove questa metodica trova forse il trattamento di elezione, nell'uso di elezione. Possiamo togliere xantelasmi, verruche, nei, quindi il campo di utilizzazione è sicuramente il più vario. Prenota ora la tua visita a Medical Proforma, ricordiamo il numero verde 819 40 63. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.